Grande successo a Barletta per i campionati italiani di Costa Rowing e Beach Sprint, un a tre giorni che ha suscitato grande interesse ma che ha generato soprattutto grande spettacolo. Protagonista la litorania Pietro Mennea, più di 500 gli atleti arrivati da ogni dove, l'evento nazionale, oltre ad assegnare i titoli di campioni d'Italia 2021 nelle categorie assoluti, junior, senior e master, ha decretato la qualificazione per i campionati del mondo che si svolgeranno dal 24 settembre al 3 ottobre in Portogallo. Impeccabile l'organizzazione del COCI, Comitato Organizzativo Campionati Italiani, della Federazione Italiana Canottaggio, della Lega Navale Italiana, sezione di Barletta, il tutto con il supporto di Regione Puglia e Comune di Barletta. Tra i testimonial d'eccezione i due campioni olimpici Stefano Oppo e Pietro Ruta, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nel canottaggio 2 di coppia maschile per pesi leggeri. Barletta ha tutte le carte in regola per diventare un riferimento nazionale di questa disciplina. Spiagge, disponibilità di parcheggi, lidi ben attrezzati e organizzati. Certo possiamo fare ancora di più, starà a noi organizzare meglio e all'amministrazione comunale metterci nelle condizioni di migliorare quello che già abbiamo per poter offrire, per poter puntare, perché no, anche a manifestazioni di respiro internazionale. Qui alla Lega Navale di Barletta siamo particolarmente orgogliosi per la macchina che è stata messa su per questo importante evento nazionale e quindi lo siamo perché i nostri equipaggi si sono comportati benissimo. Hanno portato a casa un po' di medaglie tra oro e argento, ma soprattutto abbiamo fatto un figurone sotto l'aspetto organizzativo che è quello che a noi della Lega Navale di Barletta premiva di più. Grazie.